Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato mercoledì mattina il disegno di legge sull'assestamento di bilancio presentato dalla Giunta. 18 sì, 10 no e 5 astensioni l'esito della votazione. Nel complesso il volume di bilancio sale quest'anno fino a superare gli 8,3 milioni di euro. Approvati anche i disegni di legge di rendiconto e di rendiconto consolidato 2023, pure presentati dall'esecutivo. Nell'ambito della relativa discussione la Giunta ha anche accolto in tutto o in parte cinque ordini del giorno. Due di questi al fine dello stanziamento di 500 mila euro all'anno per l'arte nelle opere pubbliche e del rimborso delle spese per pazienti trapiantati, erano del gruppo verde. Altri due per l'abolizione del limite di età per le borse di studio e per un contributo per l'acquisto annuale di un secondo paio di scarpe ortopediche per le persone con specifiche patologie del piede del Team K. Il quinto è stato presentato da City Roller Freiheit e riguarda le misure preventive per la sicurezza sul lavoro e la diffusione della relativa cultura. Nel corso della sessione è stata approvata con 31 sì e due astensioni anche una modifica della legge elettorale presentata dalla SVP. Viene stralciata dalle cause di incompatibilità che impongono di scegliere tra la carica di consigliere o la difesa in causa giuridica una lite pendente con la regione o le province di Trento e Bolzano. Ampiamente condivisa è stata l'idea che anche un consigliere o una consigliera abbiano diritto a difendersi in giudizio.